Stanze singoli in appartamenti dotati di aree comuni. Saranno 92 i posti letto dello studentato dell'Università di Padova nell'area di via Campagnola dove sorge il complesso ex SIF. Gli alloggi sorgeranno accanto agli 800 posti delle tre aule che saranno aperte entro la fine del 2023. Il progetto per la costruzione è già partito. Il fabbricato attualmente in disuso sarà completamente recuperato e ospiterà i posti letto. La conclusione lavori è prevista nel 2026. Lo studio di fattibilità dell'opera è già pronto per un costo di 9 milioni di euro. La riqualificazione di via Campagnola prevede anche la realizzazione di un'area verde ad uso pubblico. Con la realizzazione di questo nuovo studentato rendiamo così completa l'opera di riqualificazione urbana di un'area in disuso nel cuore di Padova che verrà così non solo utilizzata dalla comunità studentesca dell'Ateneo ma restituita alla cittadinanza ha commentato la rettrice dell'Università di Padova Daniela Mappelli sottolineando l'impatto zero per il consumo del suolo.